Ma, a proposito che conosce e comprende l'italiano così bene, allora le volevo chiedere... Io comprendo un poco. Ma va benissimo, è velocissimo. Le volevo chiedere una cosa. La notte tra l'8 e il 9 gennaio, quando avete incontrato i militari nel distretto, i comandanti militari, avete dovuto insistere per far sgomberare il sentito di protesta? Oppure è stato un accordo facile, semplice con i militari? Ehi, 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 o capito... Sì, ehi, 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 o capito... Sì, ehi, 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 ehi... Quero insistir con i militari per desmantellare i acampamenti. Sì, sì, grazie. Bom dia, mia famiglia che mi ama. Non è mamma.